Musica Autore della lete del 2 a 2 momentaneo però una grande soddisfazione per un bicegliese segnare con la maglia del Fuzz al Biceglie nella partita decisiva alla promozione del campionato di Serie A2 Nico Pedone è questo e soprattutto una giornata importante per aver colto la pesante eredità di Capitano Caggianelli nelle vesti di Capitano Sì infatti questa vittoria è dedicata soprattutto al Capitano Mauro Caggianelli che voleva essere presente in questa partita purtroppo per una squalifica non ha fatto parte ma è stato il primo tifoso sugli spalti che ci ha dato la carica per questa vittoria Quando ha capito Nico Pedone che la formazione del Fuzz al Biceglie e Calcio 5 poteva ambire a qualcosa di più in questo campionato di Serie B? Sendo alle fasi della preparazione ci siamo accorti che la società aveva allestito una grande squadra e appunto puntare alla vittoria del campionato Poi con tanto impegno, tanto lavoro, tanti allenamenti e soprattutto molta umiltà siamo riusciti a conquistare questo obiettivo ed è una cosa storica per la città di Biceglie soprattutto per noi bicegliesi giocare in questa città e vincere un campionato è una grande soddisfazione Una dedica personale alle telecamere di Biceglie in diretta? Dedico questa vittoria del campionato alla mia famiglia perché comunque mi segue sempre e mi dà la forza di andare avanti e giocare sempre a questi livelli Un ringraziamento al capitano di quest'oggi Nico Pedone